Ciao creatura, io sono Mecca di Splendente e benvenuta, bentornata, nel regno di Golae, A-S-M-A. Ah, creatura, se mi vedi guardare lì è perché c'è Sam e Sam non si è sentito molto bene ieri sera, mi ha fatto prendere molta paura perché faceva fatica a respirare, respirava in un modo proprio affannoso. E ho detto no, no, ci siamo, ci è arrivato il momento. Invece c'è solo tanto caldo e lei è tanto pelosa e quindi infatti non ha ancora perso tutto quel pelo che una volta in estate. E' che c'è stato appunto quel periodo in cui pioveva, c'era freddo, poi di colpo caldo e quindi ne ha risentito molto. Anche perché deve ancora perdere tutto il pelo invernale, quindi immaginatevi a stare con questo caldo qua, con un cappotto tutto il tempo. Lei è uguale al cappotto invernale che ancora deve, non deve mettersi la t-shirt praticamente, solo che se non perde il pelo inizierò a pettinarla tanto. Vabbè, e quindi adesso si è messa lì sul letto, lei piace stare sopra dei sacchetti, pazza. E quindi avevo visto che avevo il sacchetto con delle cose, allora mi ha guardato come per dire io voglio quel sacchetto, io ormai la capisco perché dopo mi sta guardando. Dopo 12 anni di... eccola, 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 sente che sto parlando di lei, quindi lei farà dei suoni scartoggianti in questo video, mi aiuta a fare il video. Anche perché è un video assaggio, perché lei l'ha capito, perché mi ha visto selezionare i prodotti. Oggi assaggio questo, questo e quello e lei mi ha guardato come dire, eh partecipo anche io, interessante questa mattinata. E quindi ogni tanto guardo di là perché appunto la sto controllando, ho dormito con me tutta la notte, non respira più in quel modo, però ho preso tanta paura perché avevo paura appunto che non ce la facesse, ecco. E quindi sai quanto ci tengo a lei, possiamo procedere con il nostro video assaggio. Allora, oggi io e Sambor mi sto guardando già tantissimo, vorremmo iniziare, vorremmo anzi assaggiare questa barretta picnic con arachidi e che si sta sciogliendo, è meglio mangiarla. L'avevo messa in frigo però con la luce qui, la ring light si squaglia tutto e quindi è una barretta tipo, credo di quelle stile snack americani, twix, lion, eccetera eccetera, sneakers, più come lo sneakers penso perché c'ha gli arachidi. Però c'ha l'uvetta, vedo, milk chocolate with caramel, quindi c'è anche il caramello, allora, cioccolato al latte con caramello e arachidi e anche cereali croccanti e dried grapes. L'uvetta, l'uvetta, l'uvetta secca, la vicina che fa casino, l'uvetta secca e, vabbè, le altre cose è meglio non leggerle perché c'è una lista infinita di roba, però vabbè, quello che ci importa è quello, vero Sam? Ti piace l'uvetta, Sam? Ok, proviamo allora. Dice che non l'ha mai mangiata. Ok, allora. Sam, non saltare sul tavolo perché mi butti giù tutto. Allora, faccio vedere. È una forma un po' strana ma secondo me si è sciolta. Il profumo è buono, facciamo non usare a Sam. Non saltare, ti ho detto. Facciamola venire qui. Eccola. Come ho spostato una cosa, è arrivata. Seduta, Sam, però. Aiuto, aiuto, aiuto. No, no, lì non c'è posto. Vieni per te. Ti ho fatto posto di qua, vieni di qua. Fa casino con la coda, poi non ci stiamo più, qua non è più uno spazio largo come prima perché c'è il computer che occupa praticamente il 90% del tavolo. Allora, andiamo ad assaggiarlo. Buona. Non ho ancora peccato l'uva, l'uvetta. Allora, è dolce e ha un retro gusto un po' amaro che è quello del caramello. Il riso soffiato all'interno e pezzi piccoli e pezzi grossi, quindi credo che il riso soffiato è differente perché alcuni sono palline gialle, alcuni sono palline grosse, tipo quelle delle gallette di riso. E non so se altri, sono altri cereali. Ah, e poi c'è l'arachide. Ah, forse quelli sono arachidi. No, forse sì, sono pezzetti di arachidi. Beh, comunque per forza tutti gli ingredienti mi piacevano, a parte l'uvetta che a me non piace tanto, però ancora non l'ho beccata, quindi... No, Sam, questo non lo odiamo, odiamo dopo che assaggierò i pretzel, quelle delle gallette di riso. Oh, l'ho beccata un po' di riso, è un po' di riso, è un po' di riso. Oh, l'ho beccata un po' di riso, è un po' di riso. Sono un po' commosa, ma con tutti questi ingredienti dolci praticamente si perde il gusto dell'uvetta. Comunque buono. Comunque buono. E' molto buono perché per forza con tutti questi ingredienti buoni non poteva essere cattivo. E poi è stato cattivo, c'era qualcosa anche in realtà. E poi... Ho messo in freezer questa perché secondo me è calda. Già, non so se mi piacerà più calda proprio, anche no. Però prima andrei ad assaggiare... Faccio così perché li ha Sam lì sul letto. Adesso sarà difficile tenerla ferma. Assaggiamo questi. Che sono dei pretzel. Hooligan crush. Hooligan pretzel crush. Senape al miele. Con la salsa senape al miele. Pezzi di pretzel c'è scritto. Sto traducendo. Perché è... Mostarda. Non è mostarda ma è senape. E' un false friends. Come si diceva una volta quando si studiava inglese. Quindi... Secondo me sono buoni questi. A me la senape non piace sempre. Dipende dagli appinamenti. Non piace proprio tantissimo perché predilico altre salse. Come tipo la mia preferita è la salsa barbecue per esempio. Però... Non è che mi dispiaggia. Tipo con i fuster non ci sta male. Oppure con qualche tipo di pesce tipo il salmone così ci sta. E con le uova ci sta. E adesso vediamo se ci sta con i pretzel. E con il miele. Sa proprio da senape. Secondo me a me non piace. Allora stanno usando. Sto facendo le fusa. Poi sembrava che avesse fatto una faccia tipo... Che però si è leccato i baffi. L'ho solo fatto annusare. Si continua a leccare i baffi. Forse le piacciono. Cos'è che non le piacciono? Lei solo l'anguria. Allora sono dei pezzi così tipo... Pezzi di crostini. No Sam. Non è per te. Non è per te. Aspetta. Eccoli qua. Sono giallini anche. Assaggio prima io Sam. Aspetta. Buoni. Ah Sam. Caduto il pezzettino. No. Sono andata fuori fuoco. Che è successo? Oh no. Che è successo? Finchè Sam sta rosicchiando io sono fuori fuoco. Eccomi qua. Sono tornato. Vuoi un altro po' Sam? Ci fai un po' di crunchy sound. Basta che non vado fuori fuoco. Sopra il mio telefono sta spriciolando qualsiasi cosa. Vabbè. Sopra il mio telefono vabbè. Comunque veramente buone. Sanno proprio... Di loro se non ti piace la senape lascia stare, perché sono solo di senape. faccio io un po' di crunchy sound adesso un po' a Sam questi li mastica almeno perché i crocantini per gatti non li mastica neanche per l'incoia wow che bel pezzettone non so se avete mai provato al Lidl c'è il pane pretzel buonissimo allora questo è più tipo i pretzel quelli salatini immaginatevi immaginate quelli creatura e bucciati nella senape con un gusto ma neanche tanto piccante quella senape dolce il miele onestamente io non lo sento però è un gusto un po' dolce e salato quindi può essere quello è più più salato che dolce non lo so sì un po' acro dolce buonissimi questi questi qua come snack vanno via che è un piacere decisamente molto sfiziosi questi li ricomprerei questa no perché non è niente di speciale invece cose come questa li ricomprerei perché non li troverai da nessun'altra parte mi sta girando intorno come uno squalo vuoi ancora se ecco l'è ecco l'è tieni si è avvicinata così il crunchy sound si sente meglio mi fa troppo bene perché ieri mi sono presa una paura quindi ho detto ok facciamo un video con te poverina l'ho sempre esclusa in questo periodo dai video assaggio però non le do più tante cose dolci perché insomma c'è la sua età ecco prima metabolizzava bene adesso non so e allora e comunque l'unica settimana in cui i miei nomi avevano detto eh al lavoro eh ma non devi dare da mangiare quelle cose lì al tuo gatto l'unica settimana in cui l'ho messa a dieta e gli ho dato solo i crocantini è stata malissimo non ti dico cosa è successo è stata malissimo non ho detto mai più infatti adesso sta bene perché le ho ricominciato a dare quello che mangio io ecco stavo anche andando in depressione oltre che ha avuto problemi di stomaco e tutto a mangiare solo crocantini e lei è abituata adesso è onnivora e quindi così cioè mangio anche la verdura vabbè ah dai stavo cercando di temporeggiare Roberta perché non volevo assaggiare questa però è arrivato il mio momento quindi devo farmi forza e poi la finirà mio padre forse o se mi piacere la finisco io sempre se non perdo se non mi esplode il cuore ok però vedo non lo diciamo voglio dire è da tanto che non ho un attacco di panico quindi madonna allora facciamolo vedere non riesco ad aprirlo non ho il mio assistente qui perché mi segue su instagram ma sa allora è Monster Energy Nitro Super Dry Taurina L Carnitine e Super Dry comunque mi piace perché è nera e verde il color è splendente praticamente l'ho tenuta in freezer speriamo si sia rinfrescata le unghie che sto ma il profumo non è male dai ma che colore ha l'interno non ci credo allora il profumo sa tipo da cedrata ma che colore è florescente è c'è una roba un misto tra un sì una cedrata però che colore però la cedrata è più gialla questa è più verso il verde anche questa sembra una roba della schifido al colore ma l'odore sembra proprio cedrata andiamo all'assaggio no ho capito che odore è non è cedrata che schifo sembrano o vivi in c o quelle multivitamini che vai a sciogliere che ha quel gusto di medicina di roba chimica di vitamina c io l'odio questo l'orice ah mi è entrato nell'occhio una bolla una bollicina mi ha schizzato nell'occhio pericchina è anche salato ci sembra proprio quei multivitamini come fate a bere ste robe non dormirò per sei giorni c'è tutti i peli di sem mi piace comunque ha un colore tipo nucleare o una cosa del genere le parrette quelle di uranio che fanno vedere tipo su i simson hanno lo stesso colore mi sembra una cosa molto però vabbè non mi fa voglia da bere meglio che cambia il gusto buoni comunque allora mi è piaciuto questo no te lo aspettavi si quindi ero anche forse prevenuta però mi piace questa sicuro rifiuto mio papà questa barretta mi è piaciuta si però fa una lotta perché alla fine a parte l'uvetta sono tutti ingredienti che sono sempre storta sono tutti ingredienti che comunque sono buoni quindi per forza poteva solo essere buona questo snack decisamente è il migliore tra tutti decisamente buonissimo e lo ricompra è sì molto sfizioso devo dire ha saporito ha un po' dolce quei gusti lì indefiniti che a me piacciono quel miscuglio di cose buono buono ok spero che questo video ti sia piaciuto io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura come sempre iscriviti al canale condividimi i miei video e commenta e lascia un like per sostenere perché così ne porto tanti altri di 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 Grazie a tutti.